Come tenere traccia della tua documentazione chimica in formato PDF o Word? Oppure utilizzando altri programmi dispendiosi in termini di tempo? Gestire le schede di dati di sicurezza SDS in maniera statica è noioso ed è difficile rimanere al passo con i cambiamenti legislativi o di composizione, condividerle, archiviarle e tenerne traccia. Proprio per questo abbiamo creato il servizio Chemios Expert. Ti permetti di archiviare, gestire e condividere le SDS online ad un prezzo davvero molto conveniente. Dei professionisti esperti si occupano al tuo posto di creare, aggiornare e gestire tutte le tue SDS, etichette e istruzioni di sicurezza. In questo modo potrai occuparti di altre questioni più importanti. Dopo aver creato un account, in pochi minuti sarai già operativo. Basta solo inviare le SDS originali o la composizione del prodotto, specificando in quali lingue ne hai bisogno. In sole 72 ore ci occuperemo di creare i tuoi documenti in base alla formula Garanzia Senza Pensieri, tenerli sempre aggiornati in armonia con la legislazione vigente, tradurli in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea. Basta un clic, adeguarli alle normative vigenti nei paesi esteri specificati e in sole 72 ore i tuoi documenti saranno completi di etichette e istruzioni di sicurezza, pronti per essere inviati. Le tue SDS saranno tenute su una pagina web sicura, pronte per essere inviate come link, allegati a una mail o come codice QR. E tu non dovrai fare quasi niente. Tutti i tuoi documenti accessibili in un unico posto, un solo login, ovunque, quando vuoi. Oppure condividili in tempo reale, sicuro che i destinatari avranno sempre a disposizione le versioni aggiornate delle tue SDS. E in più, paghi solo in base al tuo utilizzo. Più SDS hai, meno paghi. Vedrai. Pensiamo a tutto noi. Potrai risparmiare tempo e sarai più produttivo e concentrato sulle questioni essenziali. Chemios Expert, il modo migliore di gestire la tua documentazione chimica, una volta per tutte.